Alluvione, stato di calamità, l'annuncio del sottosegretario De Vincenti al termine del Consiglio dei Ministri. Misure straordinarie per Rossano, Corigliano e gli altri comuni disastrati. Immigrazione, emergenza senza fine. Domattina alle 8 altri 1000 emigranti approderanno in Calabria, la maggior parte a Vivomarina e il resto a Reggio. E la regione è pronta a istituire un cimiterro per le vittime delle carrette del mare. Ucciso da una dose di droga, forse overdose, forse una dose tagliata male. Le indagini chiariranno la causa della morte di un 35enne trovato cadavere a Catanzaro nel quartiere Campagnella. La politica quanto ci costa? La risposta nell'ultimo dossier demoscopica. La stessa regione è la stessa regione per i pagamenti agli amministratori locali, ben 92,3 milioni di euro. Luci e ombre della Sanitale, visite specialistiche ai tempi d'attesa che variano da provincia a provincia. Il commissario scura sull'ospedale di Trebisacce. Siete quattro gatti, curatevi fuori. Buonasera ai telespettatori della C. Questi principali fatti del giorno in apertura alla dichiarazione dello stato di calamità da parte del governo per i centri della Ionica Cosentina, disastrati dall'alluvione dello scorso 12 agosto. Così permetterà l'adozione di misure eccezionali in termini di risorse e procedure per rimettere in sicurezza il territorio. Gli annunci, almeno stavolta, vengono rispettati. Così il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di calamità per Rossano, Corigliano e gli altri comuni coinvolti nell'alluvione del 12 agosto scorso. Ciò consentirà l'adozione di interventi di ripristino delle zone alluvionate con finanziamenti e procedure straordinarie. A dare notizie, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. La richiesta di adozione di un provvedimento del Governo era stata deliberata dalla Regione sei giorni dopo il nubifraggio. Il Ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, ha parlato di promessa mantenuta, soddisfazione dal segretario regionale del Partito Democratico, Ernesto Magorno, che ha ringraziato in particolare il sottosegretario Luca Lotti, e soddisfazione anche dalla parlamentare Dem Stefania Covello, che parla di sinergia tra le istituzioni. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Domenico Bevacco, invita quindi a proseguire per la strada intrapresa. La soddisfazione per il provvedimento del Consiglio dei Ministri è stata espressa dal Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Il Governo ha proseguito, il Governatore ha mantenuto tutti gli impegni assunti, e di questo va senz'altro dato atto a Matteo Renzi, che immediatamente, sin dalle prime ore di quella indimenticabile giornata, si è messo in contatto telefonico con il sottoscritto per seguire l'evolversi della vicenda. Sempre in merito, il Rettore dell'Università della Calabria, Gino Mirocle Crisci, accoglie a metà la proposta avanzata dal Sindaco di Cassano, Gianni Papasso, di posticipare il termine di scadenza per le domande di ammissione all'Ateneo per il nuovo anno accademico da parte proprio degli studenti provenienti dai comuni di Cassano, Corigliano, Crosia e Rossano, colpiti dall'alluvione del 12 agosto scorso. A questi studenti, riferisce il Rettore, sarà attribuita una priorità nella fase di valutazione delle domande che possono essere prodotte fuori termine. E andiamo avanti, parliamo di immigrazione. Nelle prossime ore ben mille migranti tratti in salvo nel canale di Sicilia approderanno lungo le coste calabresi a bordo di due navi. Mille immigrati sbarcheranno nelle prossime ore nei porti calabresi di Vibo Marina e Reggio Calabria. Domattina Vibo attraccherà la nave Burbon Argos di Medici Senza Frontiere con ben 700 migranti di varie nazionalità salvati nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. A Reggio Calabria, invece, la motonave Fiorillo della Guardia Costiera giungerà con 250 immigrati di varia nazionalità. Una volta superato lo screening medico, i migranti saranno trasferiti in centri di accoglienza così come previsto dal piano di riparto del Ministero dell'Interno. In particolare saranno trasferiti in strutture del Veneto e della Toscana. Si tratta dell'ennesimo sbarco avvenuto in estate lungo le coste calabre dove tra Reggio, Vib e Crotone sono approdati oltre 12.000 immigrati. L'immigrazione ancora. Il governatore Oliverio sposa la proposta del leader del Movimento dei diritti civili Franco Corbelli e annuncia mi attiverò per l'istituzione del cimitero dei migranti. Il dramma di quanti scappando dai loro paesi trovano la morte non accenna a diminuire e di fronte agli altri 50 cadaveri scoperti ieri nella stiva di un barcone diretto verso l'Italia e soccorso a largo della Libia, il presidente Mario Oliverio conferma l'alto valore umanitario della proposta di Franco Corbelli di realizzare il cimitero internazionale di migranti per dare degna sepoltura alle migliaia di vittime del mare. Un'iniziativa che la Regione Calabria intende sostenere chiedendo al Governo centrale un aiuto fattivo. Nei prossimi giorni, ha detto Oliverio, incontrerò Corbelli e il sindaco di Tarsia il luogo dove dovrebbe sorgere il cimitero per valutare le iniziative da assumere. Insieme a loro voglio effettuare un sopralluogo per attivare il percorso amministrativo alla realizzazione di questa importante opera. Parliamo adesso dei costi della politica. A Demoscopica ha prodotto uno studio sulla spesa che gli enti sostengono per i propri amministratori. La Calabria, nonostante tagli, spending review e carrozzoni soppressi, è tra le sei regioni che spendono di più. Quanto costano gli amministratori locali calabresi? 92,3 milioni di euro all'anno. Come se ogni cittadino pagasse di tasca propria 46,6 euro. Ed è la sesta regione, la Calabria, per i costi della politica ricavati dai mandati di pagamento effettuati dalle tesorerie di regioni, comuni, province, comunità montane e parchi regionali. In pratica, poco sopra della media nazionale, nonostante tagli e spending review, la Calabria resta la sesta regione per il volume di spesa prodotto per assicurare il sostentamento dei suoi amministratori. I dati emergono dalla nota scientifica sulla mappatura dei costi della politica nelle regioni italiane realizzata dall'Istituto Demoscopica, che ha utilizzato e rielaborato i dati contenuti nel sistema informativo Siope per il 2009, 2014 e 2015. L'Istituto di ricerca guidato da Raffaele Rio mostra anche qualche sorpresa. Contrariamente a quello che si potrebbe ipotizzare, sono due regioni del nord ad avere il record della spesa per gli amministratori locali. Si tratta di Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Qui i politici costano 143,4 euro e 63,5 euro per abitante. Le più parsimonose sarebbero invece, altra sorpresa, Lombardia e Lazio. La prima 12,9 euro per abitante, la seconda 12,8. La politica, stavolta vista da un osservatorio più tradizionale. Estate agli sgoccioli e gli schieramenti calabresi si preparano ad un autunno caldo anche alla luce di una serie di stravolgimenti e cambi di casacca in itinere. Il punto della situazione è realizzato da Tonino Fortuna. Uomini divisi dagli eventi che tornano ad incrociare i rispettivi destini. Partiti ormai sul punto di evaporare storie di trasversalismi nuovi e vecchi rancori. A sinistra come a destra si prepara in Calabria un autunno caldo. Il Partito Democratico ripartirà dal confronto programmato da Ernesto Magorno per domani alla mezza terme. Ci saranno i rappresentanti dell'esecutivo regionale, qualcuno con uno staff nutrito al proprio seguito, i consiglieri di Palazzo Campanella, i deputati e i sindaci dei capoluoghi di provincia. Chiaro l'intento, ricominciare dal dialogo per programmare una stagione che si annuncia decisiva non solo per il governatore e la sua squadra, ma per l'intero PD atteso anche dalle prossime elezioni amministrative. Cruciale si preannuncia l'appuntamento per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cosenza dove uno schieramento trasversale proverebbe a sbarrare la strada della riconferma al forzista Mario Occhiuto puntando niente meno che su Giacomo Mancini, nipote del vecchio leone socialista. Il progetto, che potrebbe divenire ufficiale da qui a qualche settimana, coinvolgerebbe ovviamente il nuovo centrodestra dei Fratelli Gentile, da tempo in rotta di collisione con il primo cittadino Bruzio, i socialisti di Enzo Paolini e gli uomini di Nicolai Adamo, sempre meno incline ad assecondare il governatore Oliverio. Tra le figure politiche che rimangono al centro della scena c'è Vanda Ferro che attende l'esito del suo ricorso alla giustizia amministrativa per accedere in Consiglio regionale. Ascoltiamo le sue parole e ripercorriamo la sua vicenda grazie a questo servizio. Aveva preso sulle proprie spalle un centrodestra alla deriva, vittima di un finale di legislatura in colore, con l'ex governatore Scopelliti costretto alle dimissioni dopo una condanna e l'amministrazione regionale che tirava a campare il regime di prorogazio. La sua battaglia con Mario Oliverio sembrava persa in partenza. Ne era ben conscia Vanda Ferro. Un'altra eventualità, l'ex presidente della provincia di Catanzaro, non aveva invece messo in conto, ovvero la sua esclusione dal Consiglio regionale. Da lì il ricorso al Tare e il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sulle contraddizioni dell'attuale legge elettorale. Vanda Ferro attende con trepidazione l'esito della vicenda per varcare finalmente la soglia di Palazzo Campanella e liberare l'astronave, parole sue, da padrini e padroni della politica calabrese. Auspico di entrare in Consiglio regionale non per fare battaglie contro, ma sicuramente per fare battaglie per una terra completamente differente nella cultura, quella terra che dicevo in campagna elettorale, la Calabria che può diventare ciò che è quella Calabria senza né padrini né padroni politici. E continua il nostro viaggio nella sanità calabrese che attende le nuove assunzioni per dare respiro agli ospedali. In questo servizio però scopriamo come i tempi per gli esami diagnostici e noi prendiamo come esempio quelli per la prevenzione del tumore al seno cambino radicalmente da provincia a provincia. Ascoltiamo. Da provincia a provincia le tante facce della sanità calabrese, dalla riduzione dei posti letto all'accorpamento dei reparti fino al blocco del turnover che ha finito per ridurre i servizi essenziali. A questo problema il commissario ad acta Massimo Scura ha tentato di mettere una toppa dando il via libera alle prime assunzioni, 353 tra medici e infermieri spalmati in tutte e cinque le province, numeri insufficienti a coprire tutte le caselle rimaste vacanti negli anni, una carenza che si riflette direttamente sui servizi. Per capire quanto intasato il settore è sufficiente prenotare una visita al centro unico prenotazioni. A Vibo Valencia per una mammografia occorrono 293 giorni, a Catanzaro addirittura il numero verde attivo per le prenotazioni risulta inattivo da mesi e la procedura per mettersi in lista d'attesa scoraggia anche più tenaci. A Cosenza la situazione sembra migliorare. Per una visita senologica, mentre a Vibo l'attesa è di nove mesi, all'annunziata è di poco più di un mese, si riduce a un paio di giorni nelle strutture private accreditate dal servizio pubblico. Rispetto alle altre realtà il servizio sembra dunque rispondere alle esigenze della collettività. Qui, nel piano messo a punto dal commissario Scura, sono stati inviati 68 nuovi medici, 40 infermieri e 24 operatori sociosanitari che andranno a colmare una grave carenza d'organico. Nei mesi scorsi, proprio a causa delle condizioni di perenne stress cui erano costretti i camici bianchi dell'annunziata, due medici vennero colti da infarto e un altro da ictus. E adesso il caso dell'ospedale di Trebisacce, oggetto di un servizio realizzato dal Quotidiano del Sud che ha riportato parole attribuite al commissario Scura che fanno molto discutere. Siete quattro gatti, avrebbe detto al sindaco del comune Cosentino, e potete curarvi fuori regione. Sentite. Siete quattro gatti, potete curarvi a Policoro in 20 minuti, a Taranto in un'ora e a Bari in un'ora e mezza. Voi non avete bisogno di un ospedale. Parole pronunciate, scrive il Quotidiano del Sud, dal commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario in Calabria, Massimo Scura, che così avrebbe liquidato le richieste del sindaco di Trebisacce, Franco Mundo. Per Scura, riferisce a un servizio pubblicato sul Quotidiano a firma di Adriano Mollo, i cittadini dell'Alto Ionio avrebbero quindi una valida alternativa. Possono curarsi in Basilicata e in Puglia, qualora in Calabria non trovassero soddisfacenti i servizi. Questa è una delle aree che contribuisce all'emigrazione sanitaria anche per servizi ambulatoriali e non solo ospedalieri. E' qui che sono operativi molti studi medici di professionisti di case di cura, principalmente pugliesi, che reclutano pazienti per portarseli fuori, perché ogni prestazione oltre confine sono soldi in più per quelle regioni e in meno per la Calabria. E con il piano di rientro calabrese, la Basilicata e non solo ha potenziato i servizi degli ospedali di confine, mentre la Calabria li ha chiusi. La cronaca. Un 35enne di Catanzaro è stato trovato cadavere nel quartiere Campagnella della città capoluogo di Regione. Ad ucciderlo sarebbe stata una dose di droga. La procura indaga per chiarire se si sia trattato di overdose oppure se abbia assunto una dose di droga tagliata male. Hanno trovato il suo corpo senza vita riverso per terra all'interno del suo appartamento nel piano rialzato in località Campagnella, Catanzaro Sala, quartiere a sud della città. Tommaso Nicoletti, 35enne, originario del Crotonese ma residente nel capoluogo, cameriere in un noto ristorante cittadino, aveva un passato da tossicodipendente. Più volte era stato ospitato in un centro per il recupero di tossicodipendenti. Parenti e amici pensavano che Tommaso i conti con la droga li avesse chiusi per sempre già da tempo e invece i vigili del fuoco, allertati dai familiari che non avevano notizie di Tommaso da 24 ore, hanno trovato in casa un consistente quantitativo di eroina e il medico legale Silvia Bocca, arrivata sul posto insieme ai carabinieri guidati dal comandante del normo Michele Massaro e delegati alle indagini, ha accertato che la morte è strettamente correlata all'uso di droga. A questo punto l'esame autoptico che verrà eseguito sul corpo del giovane uomo nelle prossime ore dovrà chiarire se il decesso è dovuto a un'overdose o a una partita di droga tagliata male. Torniamo adesso ad occuparci del presunto caso di malasanità che arriva da Crotone, dove è morta un'infermiera di 35 anni al sesto mese di gravidanza assieme ai gemellini che portava in grembo. Sul registro degli indagati finiscono sette medici. Il servizio. Sette medici dell'ospedale di Crotone sono indagati nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica sulla morte di Maria Scarpino, la donna di 35 anni, incinta di due gemelli al sesto mese di gravidanza, deceduta ieri. Nei confronti dei sette medici si ipotizza il reato di omicidio colposo. L'inchiesta della Procura della Repubblica è stata avviata dopo la denuncia del marito della donna, Raffaele Ferraro. Il sostituto procuratore, Alessandro Riello, ha disposto l'autopsia. E intanto la Procura ha nominato due consulenti, il professore Pietro Antonio Ricci e la dottoressa Silvia Bocca, ai quali domani pomeriggio sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Maria Scarpino, giunta nell'ospedale di Crotone sabato scorso, era stata ricoverata nel reparto di ginecologia. Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, le condizioni di salute della donna si sono aggravate, tanto da essere sottoposta ad un esame urgente nel corso del quale è però deceduta. La donna che soffriva di una patologia genetica aveva sostenuto un'altra gravidanza, dando la luce a una bimba oggi di tre anni. Ancora cronaca, si è svolto davanti al GIP l'interrogatorio di garanzia all'uomo accusato di aver assassinato Antonia Rotella, la nuova antenne che sarebbe rimasta vittima di una rapina finita male nella sua casa di Catanzaro. Ascoltiamo la sua difesa in questo servizio realizzato da Gabriella Passariello. Non l'ho uccisa e non avevo nessuna intenzione di ammazzarla. Non nego di averla imbavagliata con una tovaglietta bloccata con del nastro isolante, legata ai piedi dell'armadio e picchiata in viso, di averla seguita per giorni, di volere i suoi soldi, ma non volevo ucciderla. Questa mattina, durante l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Catanzaro, si è difeso Leonardo Procopio accusato dell'omicidio aggravato e della rapina aggravata della novantenne Antonia Rotella, conosciuta in città come Ziatota, avvenuto sabato scorso in un appartamento di Via Alessandro Turco, a pochi metri dal Tribunale. Il presunto carnefice ha confermato la deposizione resa al PM Fabiana Rapino, titolare delle indagini, qualche ora dopo il fermo. Il legale dell'indagato, Raffaele Fioresta, ha chiesto al giudice che il reato di omicidio aggravato venga derubricato e qualificato come omicidio colposo, depositando una perizia, da cui risulta la semi-infermità mentale del presunto assassino. La morte, secondo le tesi difensive, non sarebbe stata intenzionale, ma un evento causato come conseguenza di un altro reato. Il giudice delle indagini preliminari, Pietro Scuteri, si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare da applicare, riserva che verrà sciolta nelle prossime ore. E adesso le altre notizie di cronaca della giornata. Un cartello con sopra disegnata una croce, al centro della quale qualcuno ha scritto il cognome di Domenico Luppino, direttore generale della cooperativa Giovani in Vita di Anoia, nel Regino. Il cartello è stato affisso dai gnoti, probabilmente durante la notte, sul cancello attraverso il quale si accede al terreno su cui la Coop opera. Il gesto scoperto stamani segue di pochi giorni il furto di un trattore e di altri mezzi e l'incendio di un ulivo secolare, in seguito ai quali i responsabili di Giovani in Vita avevano lanciato una sottoscrizione al fine di raccogliere i fondi necessari per riparare ai danni subiti. Da due anni la cooperativa gestisce circa 400 ettari di uliveti e agrumeti confiscati. La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto una truffa ai danni dell'Inps ed ha denunciato 176 falsi braccianti. La truffa, secondo i finanzieri, è stata organizzata da un imprenditore agricolo della Sibaritide ed ha consentito ai falsi braccianti di percepire illegalmente indennità per 627 mila euro. Le indagini della Guardia di Finanza sono state dirette dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Pacchi di pasta, confezioni di tonno e carne in scatola e il bottino di una rapina compiuta in un supermercato a Torretta di Crucoli, nel Crotonese. I responsabili della rapina, due uomini e una donna di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri. Giunti nei pressi della cassa, i tre avrebbero aggredito il gestore colpendolo alla testa. Si sono giustificati sostenendo che la merce era stata sistemata nella borsa della donna in attesa di trovare un carrello per la spesa. E adesso occupiamoci di un presidio tra i più importanti del Mezzogiorno, ovvero la scuola allievi agenti della Polizia di Vibo Valencia, che il Ministero dell'Interno sembra intenda e marginare a favore degli istituti di formazione del Nord. Ai nostri microfoni il sindacalista del SIUP, Franco Caso. Un baluardo di legalità da un lato, in una provincia di frontiera, un presidio che dà lustro al Mezzogiorno d'Italia dall'altro. Questa è la scuola di polizia di Vibo Valencia. Malgrado ciò, le politiche del Viminale rischiano di provocare un ridimensionamento contro il quale è forte la levata di scudi del sindacato. Il SIUP ha ritenuto opportuno denunciare la formazione dei corsi allievi agenti solo al Nord per due ordini di motivi. Il primo perché sono state arruolate 1.050 persone, quindi un numero considerevole di arruolamento straordinario della Polizia di Stato. Di conseguenza ci saremmo aspettati, in qualità di unica scuola del Sud, che ci avessimo avuto la nostra parte di allievi agenti. Così non è stato, perché la maggior parte dei corsi, esattamente 990 allievi, sono andati tutti al Nord. 60 allievi alla scuola di Campobasso, che sono quelli del centro. Questo naturalmente è un danno per l'immagine della scuola e per il territorio di Vibo Valencia, dove questi ragazzi si potevano formare. Una presa di posizione è quella del SIULP, che ha mosso qualcosa con l'adozione di un'iniziativa da parte del Ministero dell'Interno, che apre una prospettiva che però non basta a rendere il futuro più sereno. Il Ministero degli Interni ci ha fatto già sapere, informalmente, che manderà un corso di vice-sovrintendenti. Quindi si formeranno qua i vice-sovrintendenti della Polizia di Stato. Il corso durerà tre settimane, però saranno dieci cicli, quindi comunque ci saranno dieci mesi di impiego della scuola. Questo per noi è un risultato, da questo punto di vista, perché la scuola lavorerà e quindi eventualmente, anche per questa volta, la usura è stata scongiurata. Andiamo adesso nel Regino, dove in alcune realtà la raccolta differenziata potrebbe funzionare ed anche in maniera efficiente. Ma a causa dell'amorosità degli enti verso le ditte incaricate, il servizio viene interrotto. Il caso di merito portosalvo, il servizio è di Tiziana Bagnato. I comuni non pagano, sono morosi nonostante le sollecitazioni e alla ditta mancano persino i soldi per pagare il carburante dei mezzi. Ecco allora che la raccolta differenziata non si fa e i camioncini rimangono nel parcheggio delle aziende sotto il sole cocente. È quello che sta accadendo nel Regino, dove l'Ase, d'azienda servizi ecologici diversi, non riesce a pagare i crediti accumulati con i fornitori di carburante perché i comuni non versano quanto dovuto per la raccolta differenziata. Il più amoroso è il comune di merito portosalvo, che deve somme ingenti alla ditta, seppure è bene precisare che c'è un'avvertenza in corso. I comuni di Bagaladi e San Lorenzo hanno colto l'appello dell'ASED e saldato il dovuto, ma le cifre che mancano all'appello sono ancora tante. Della questione è stato interessato il prefetto, avvertito della possibilità che il servizio venga completamente sospeso. Il fornitore di carburante, stanco della ciclica situazione, ha di nuovo chiuso i rubinetti e da ieri gli automezzi non vengono usati. E così sarà ancora nel caso del comune di Melito, finché gli arretrati non verranno saldati. Michele Drossi, sindaco di Satriano, è presente il suo libro Le vie del riformismo, prefazione del presidente della regione, Mario Oliverio. Sentite. Ritrovare il paradiso perduto del riformismo in una terra che da anni è emarginata dai processi politici è fuori dall'agenda di governo. È il sindaco di Satriano Michele Drossi, un amministratore di periferia con una storia da socialista alle spalle, a rispolverare le sue doti di scrittore per porre sotto la lente di ingrandimento un tema affidato da tempo solo ai salotti buoni della politica. Abbiamo bisogno soprattutto qui di una ripartenza e di un supplemento d'impegno per fare in modo che si possano recuperare i ritardi e dare risposte per implementare per esempio l'occupazione che ha toccato picchi altissimi di disoccupazione, per liberarsi da una burocrazia che è sempre più opprimente, per cercare di fare attività preventiva per la manutenzione del suolo e per evitare i disastri che abbiamo conosciuto proprio nei giorni scorsi a Rossano e a Corigliano, per cercare di sostenere lo sforzo dei sindaci e dei comuni. A discutere con l'autore Vandaferro ed il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, l'esto a rammentare il significato di un libro scritto da un sindaco del Mezzogiorno, quel sud raramente capace negli ultimi anni di far sentire la propria voce a Roma. L'agenda politica del paese non è stata mai scritta da uomini del sud e quindi c'è questa sofferenza in questo libro, c'è questa difficoltà a condividere anche le esigenze dei cittadini rispetto alle risposte che si possono e si devono dare. E adesso parliamo del raduno delle Alfa Romeo d'epoca che ha avuto la sua location a Pizzo, tra marcorde e motori ruggenti, così si è rivissuto un pezzo di storia italiana. 1960, Giulietta, seconda serie, Berlina, una delle prime Giuliette della seconda serie. E cosa rappresenta per lei questa Giulietta? La storia della nostra vita, l'Alfa Romeo. Che cosa bisogna dire? Come diceva Ford, quando vedi passare un Alfa ti devi solo togliere il berretto. Solo chi è appassionato delle Alfa Romeo può comprendere l'amore e l'attaccamento per una vettura che ha segnato un'epoca. Fondata il 24 giugno 1910, durante la sua storia, la casa, detta del Biscione per il suo stemma, ha realizzato molte vetture. Da un punto di vista tecnologico, l'Alfa Romeo è considerata tra le più all'avanguardia del panorama automobilistico mondiale grazie alle molte innovazioni che hanno esordito sulle sue vetture. Veri e propri cimeli per chi le possiede, collezionisti che una volta l'anno organizzano il raduno delle Alfa Romeo, un tour che ha fatto tappa nei giorni scorsi a Pizzo. Tirate a lucido, hanno attraversato il lungomare Cristoforo Colombo, tra l'entusiasmo e la curiosità dei passanti. Grande evento ieri sera a Roccelletta di Borgia, nella prestigiosa cornice del Parco Scolacium, il concerto di Francesco Renga. Rock, melodia, improvvise aperture orchestrali hanno caratterizzato in un gioco di luci spettacolare il concerto di Francesco Renga al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia. Il cantautore Friulano, per la seconda volta in Calabria, dopo il sold-out dello scorso novembre al Politeama di Catanzaro, ha proposto le canzoni di tempo reale e i successi della sua carriera. Da Raccontami, ad Angelo, passando per alcune pagine del suo repertorio, con Ci Sarai, ancora lei, tracce di te, la tua bellezza, è riuscito ad emozionare i fan che hanno voluto e richiesto il ritorno in Calabria del cantautore. Una voce, quella di Renga, che viaggia su altezze e intensità fuori dal comune, richiamando da lontano la lezione di un grande artista che di Renga è stato sempre uno dei principali ispiratori e modelli, il cantante dell'area Demetrio Stratos. La tappa calabrese, la seconda dopo quella di Diamante, entrambe organizzate dalla SM Musica di Maurizio Senese, rientra nel tour estivo di Tempo Reale Extra Tour, uno show pensato per i più prestigiosi spazi all'aperto. E questa sera Vibo Valencia prenderà il via il Vibo Tarantella Festival. La manifestazione è giunta alla quinta edizione, uno degli eventi più attesi nell'ambito dell'estate etno-folk calabre in servizio. Dal XVII secolo attraversando il regno delle due Sicilie, melodie, musiche e danze che costituiscono frammenti di una tradizione che forma una cultura e un'identità nel profondo sud. Questa è la Tarantella che da stasera fino a domenica prossima sarà protagonista a Vibo Valencia per quello che è uno degli eventi di musica popolare più attesi e partecipati nell'estate calabrese. Si tratta del Vibo Tarantella Festival, manifestazione giunta alla quinta edizione, nata da un'idea del promoter Franco Buccina che neanche il direttore artistico. Tra i protagonisti alcuni dei più apprezzati artisti e gruppi del panorama etno-folk, Ciccionucera, Indarranciamo, I Notte Battenti, Sud Danza, I Taranta dello Stretto, Notti da vivere, da ballare, in Piazza Martiri d'Ungheria, nel solco di un ritmo travolgente che consolida, quello vibonese, tra gli appuntamenti di cartello anche nel circuito delle manifestazioni etno-folk più interessanti e seguite dalla Puglia fino allo stretto. Adesso ci fermiamo pochi minuti dopo i pubblicità, torniamo dunque con il TG Sportivo, a tra poco. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. are e fuori